Musica Ben ritrovati cari telespettatori ed eccoci insieme un altro appuntamento, tante interviste, tanti approfondimenti, tante tematiche. Come sempre incominciamo con lo SPI CGL, seguite con molta attenzione perché le novità che ci verranno presentate con queste ci dovremo convivere per un po' di tempo, ma richiedono un po' di pazienza per essere apprese, ma sarà bravissima chi ce lo spiega e quindi andiamo e ascoltiamo bene.